La perfezione non esiste e so che non dico una grande novità, ma io lo voglio dire, lo voglio gridare, lo voglio urlare, la perfezione non esiste! Magari l'avessero detto prima a me, sapete? Bisognerebbe inserirla tra i primi insegnamenti che ci danno. Lavati le mani prima di mangiare, non dire le parolacce e la perfezione non esiste. Sai quanto tempo perso a cercarla? È come in amore, no? Io pensavo di dover essere perfetta per trovare l'uomo della mia vita, per piacerli, perché si innamorassi di me. Alla fine ho trovato un uomo molto speciale, lui, mio marito Rossano, che mi ha detto una cosa che mi ha fatto molto ragionare. Devi sorridere per i tuoi difetti. Ed è vero. E si è preso il pacchetto intero, pregi e difetti. E io ho fatto la stessa cosa con lui. O almeno ci stiamo provando, ecco. A volte vorrei parlare alla Vanessa di vent'anni fa e dargli un piccolo consiglio. Vane, smetti di voler essere diversa da quello che sei, perché tanto la perfezione non esiste. Io volevo, sapete, diventare ciò che non sono. Un po' più così, un po' più cosà. Tutti mi volevano diversa. Tutti. Ma tutti chi? Ho perso tempo a cercare di essere giusta, dimenticandomi di essere felice, perché pensavo di essere sbagliata agli occhi degli altri. Se fossi nata negli anni 30 o negli anni 50, quando il modello femminile era morbido, sarei stata perfetta. Però vivo nel 2000 e avere le forme è ritenuto sbagliato. E per questo io dovrei vergognarmi? Pensate se fossi nata in Colombia. A questo punto magari potevo essere la musa di Botero. Anzi, maestro, se mi sta guardando sono qui a sua completa disposizione. Adesso riesco a sorridere, ma non è stato sempre così. Perché a volte le critiche feriscono. Partono da un cellulare e arrivano dritte allo stomaco. E quando vai in giro, sai che dietro le facce che incontri per strada, al supermercato o davanti la scuola, potrebbero nascondersi tutti quelli che pensano che tu sia sbagliata. Ma in realtà quel tutti non esiste. Esistono le persone. Ad alcuni poi piaceri, ad altri no. Ma va bene così perché la perfezione non esiste. Conta solo quello che pensi di te stessa quando ti guardi nello specchio. Beh, io sono molto orgogliosa di quello che vedo. A volte mi piaccio, altre volte no. Ma voglio bene la persona che ho di fronte. E penso che è importante circondarsi delle persone che ci vogliono bene per quello che siamo e che ci spingono ad essere noi stessi. Perché tanto nella vita la perfezione non esiste. Grazie.